Musica Incidente mortale a Valdevice, muore un 38enne Speedy Rugs, traffico di stupefacenti tra Mazzara, Marsale e Castelvetrano Inaugurata questa mattina l'edizione 2019 del Blue Zealand Conclusa la visita di Carla Fracci al Selinus di Castelvetrano Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG8 Informazioni Apriamo il nostro TG con una triste notizia Nuovo incidente stradale mortale in provincia di Trapani A perdere la vita il 38enne trapanese Davide Di Gregorio La tragedia è avvenuta nella notte in via Croci Quella che collega Trapani con Valderice Di Gregorio si trovava a bordo di un'auto, una Fiat 600 Che per causa in corso di accertamento Si è scontrata con un'altra vettura, una Ford Fiesta Il cui conducente insieme ad un passeggero, padre e figlio Sono rimasti feriti Per estrarre i corpi dei due feriti fuori dall'abitacolo È stato addirittura necessario l'intervento dei vigili del fuoco I due sono stati ricoverati all'ospedale Sant'Antonio Abbate Con trauma cranico e il più giovane anche con trauma toracico Sul posto i sanitari del 118, la Polizia stradale per i rilevi del caso E i carabinieri Il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzella del Vallo Ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare Messa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala Con la quale si dispone l'obbligo di dimora nei confronti di tre soggetti E l'obbligo di dimora congiuntamente alla presentazione alla Polizia giudiziaria Nei confronti di altri quattro individui Il provvedimento è stato emesso a seguito di una complessa attività di indagine Nell'ambito dell'operazione denominata Speedy Drugs Condotta dagli investigatori della squadra Pegaso del commissariato Nel corso dell'attività i poliziotti hanno sollevato il velo Su una ramificata rete di persone Dedita al traffico di stufefacenti del tipo di cocaina e marijuana Coinvolgente territori di Mazzara del Vallo, Marsala e Castelvetrano Nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, martedì 15 ottobre I poliziotti del commissariato cittadino Insieme alla squadra cinofila della Questura di Palermo Hanno eseguito perquisizioni all'interno delle abitazioni Dei sette soggetti arrestati Continua infine senza sosta L'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato Volta a rispondere prontamente ai bisogni di sicurezza della cittadinanza Ed ancora un arresto, questa volta ad essere arrestata Nel suo paese d'origine, la Repubblica Ceca Monica Sizzabtasova 45enne, residente a Mazzara del Valle E titolare di un'agenzia di viaggi in città La donna è stata tratta in arresto dalle forze di polizia della Repubblica Ceca In esecuzione di un mandato internazionale Per lei l'accusa è di appropriazione in debita Ed ancora cronaca Una piantagione indorre è stata scoperta e sequestrata ad Alcamo dai carabinieri Arrestato in fragranza di reato Andrea Ruisi, alcamese di 41 anni Sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza I militari hanno condotto una serie di perquisizioni Che hanno permesso di trovare in un magazzino contiguo all'abitazione dell'arrestato Una piantagione indor composta da 120 piantine di canna bisindica Dall'altezza media di 150 cm Nel locale trovati sistemi di illuminazione e riscaldamento artificiale Opportunamente predisposti per incentivare la crescita delle piante I carabinieri hanno anche trovato un'arma clandestina perfettamente funzionante Ruisi è stato condotto presso gli uffici della compagnia di Alcamo Dove al termine delle formalità di rito È stato arrestato per coltivazione e detenzione Fine di spaccio di sostanza stupefacente E detenzione di arma clandestina Ed è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani E cambiamo argomento Parliamo di politica Con una nota che ci è giunta dal commissario provinciale della Forza Italia Tony Scilla Era assolutamente essenziale costituire l'ufficio politico regionale Ha detto l'ex onorevole Tony Scilla Viviamo un momento storico e socio-economico particolare Ed è indispensabile tornare concretamente tra la gente Bisogna sapere intercettare le esigenze del ceto produttivo Delle partite IVE, delle imprese agricole e di pesca Degli edili e degli artigiani e dei commercianti Forza Italia prosegue la nota È in grado di fare tutto ciò E ha nel proprio DNA le donne e soluzioni liberali Per ridare fiducia ed assicurare prosperità e benessere Ai siciliani Mettendo al centro della propria azione politica La questione meridionale E adesso ampio spazio al Blue Zealand Questa mattina ha preso il via l'ottava edizione Intorno alle 9.30 presso l'aula consigliare 31 marzo 1946 di Mazzara del Vallo La cerimonia di inaugurazione subito dopo l'inizio dei lavori Con il primo convegno dedicato al tema Commercio estero e internazionalizzazione del settore ittico Mercati a confronto alla sfida del 2020 Noi eravamo lì e abbiamo sentito intanto il presidente del distretto Nino Carlino Non ci saranno solo convegni Non ci saranno solo workshop Ma ci sarà street food dentro la casba Stasera alle 20 nella piazza della Repubblica Ci sarà il videomapping Che è un'assoluta novità E che sarà una sorpresa Perché è un videomapping che è stato realizzato Sui lavori fatti Da un artista famoso di Mazzara del Vallo Ormai scomparso da tanti anni Che quest'anno ricorre il centenario della nascita Per cui non sarà solo una manifestazione Fatta solo di convegni E di workshop Di B2B Quelli ci saranno Sono importanti Perché è importante per le nostre aziende Che facciano business È importante per la Sicilia Per noi del distretto Per il comparto della pesca Fare in modo di esportare Le buone pratiche che abbiamo messo in atto negli anni Giovanni Tumbiola è stato l'ideatore del distretto della pesca Ed è stato anche l'ideatore di questa manifestazione A lui va il nostro applauso Ma soprattutto va il riconoscimento e il merito Di avere intuito che attraverso questa manifestazione Si può in qualche maniera esportare Quello che è il sistema pesca Sicilia Anche in altri paesi Io ho detto che ci sono le premesse Affinché ci sia Questo poi lo facciamo a consuntivo Per Scaramanzia Però ci sono in effetti Ci sono tutte le premesse Affinché questa sia Un'edizione di grande successo Se non altro Per la presenza per esempio Della presentazione di Expo Dubai Che sarà un anno esatto da ora Che tra tutti in Italia Hanno scelto Mazzara del Vallo E hanno scelto Blue Zealand per venirlo a presentare Quindi non fosse altro che per questo Sì, abbiamo E' arrivato ieri sera Il ministro libico dell'agricoltura e della pesca Oggi avremo in corso Un incontro riservato Con il ministro Alla presenza del sottosegretario Di Stefano Per vedere di porre le basi Per una soluzione all'annoso problema Dell'autodichiarata zona esclusiva economica libica E a fare gli onori di casa Nell'aula consigliare 31 marzo 1946 Il primo cittadino di Mazzara del Vallo E' il sindaco Salvatore Quinci Anche a lui abbiamo sentito A margine della cerimonia di inaugurazione di Blue Zealand Senza infrastrutture non possiamo andare da nessuna parte Purtroppo Mazzara viene da un lungo periodo In cui il porto è diventato inattivo Ha smesso di essere porto commerciale Non ha mai iniziato a diventare un porto turistico vero e proprio In cui il fiume Mazzaro Sede dei nostri cantieri Di fatto è stato avviato alla dismissione Non c'è alcuna possibilità Di parlare di un futuro per la pesca Senza delle infrastrutture efficienti E soprattutto innovative Dal punto di vista della logistica Noi abbiamo le idee chiare Sul piano industriale per Mazzara Che non può prescindere da uno sviluppo del settore della pesca Gli altri comparti produttivi Quali turismo, terzo settore, servizi, agricoltura Ovviamente devono essere di supporto E hanno una potenzialità ancora totalmente inespressa a Mazzara Ma il settore principale è quello della pesca Per questo nel nostro piano industriale Diventa centrale lo sviluppo del porto nuovo Come porto non solo peschereccio ma anche commerciale e turistico Noi di nostro abbiamo preso le risorse che di agenda urbana Erano indirizzate su altri tipi di investimenti E abbiamo deciso di investire sul porto nuovo come hub portuale Sarà davvero un'opera innovativa Cambierà il volto del nostro porto insieme alla dogana nuova La capitania di porto nuovo E al mercato del pesce e orto frutticolo Dove noi intendiamo ospitare il CNR Uffici del distretto produttivo della pesca L'ufficio comunale al servizio della pesca Le associazioni di categorie Per generare quello che è proprio la cittadella della pesca Se riusciremo nel compito complicato Perché attendiamo davvero da tanti anni Di dragare il fiume Mazzaro Anche quell'attività cantieristica che aveva sede lì Può cominciare a pensare al futuro con serenità Questi sono gli obiettivi dichiarati Vediamo cosa riusciremo a fare E' chiaro che diventa centrale un'interlocuzione con la struttura regionale Perché non nazionale E' l'evento internazionale di Mazzara del Vallo Noi non siamo riusciti a dare ancora il nostro segno Perché questa edizione ovviamente era già organizzata Predisposta da tempo Abbiamo solo messo tutto il nostro supporto E anche un notevole contributo Per la realizzazione del Blue Sea Land E questo è stato il nostro aiuto per quest'anno Contiamo invece di mettere in campo iniziative A partire dalla prossima edizione In modo tale che raggiungiamo questi obiettivi Il primo del quale è ancorare definitivamente Il Blue Sea Land a Mazzara del Vallo Perché so che ci sono tante chiacchiere a Mazzara Ma in realtà io le smentisco tutte Abbiamo una profonda interlocuzione col Presidente Carlino Il secondo obiettivo è quello di rendere il Blue Sea Land Il patrimonio di tutta la città E in qualche modo dare anche noi il nostro segno Utilizzando questo che è l'unico evento internazionale Che oggi è a Mazzara del Vallo Come veicolo promozionale del nostro territorio Mazzara è l'incontro di quattro popoli Quattro culture Il Blue Sea Land si inserisce perfettamente In questa tradizione E dovrà continuare a farlo Abbiamo sentito il primo cittadino Che ha parlato anche del Porto Canale A tal proposito c'è giunta notizia Che proprio la prossima settimana Dovrebbe venire in città Il Presidente della Regione Musumeci Per dare via ai lavori Tanto attesi di escavazione del fiume Mazzaro Tra gli ospiti quest'oggi All'inaugurazione del Blue Sea Land C'era anche l'Onorevole Michele Catanzaro Noi l'abbiamo sentito Diciamo che l'anno scorso La mia presenza E la presenza della Commissione Ha portato un pizzico di fortuna Perché abbiamo presentato Il disegno di legge Che oggi è diventato legge Quello sul riordino della pesca in Sicilia Dopo 18 anni E quindi l'anno scorso L'abbiamo presentato qui a Mazzara Perché vede la mia firma Come primo firmatario C'è stato il lavoro Diciamo tra la Commissione e il Governo E siamo arrivati appunto Diciamo in aula A far diventare quel disegno di legge Che nessuno ci credeva Legge Quindi il Blue Sea Land È molto importante E uno degli articoli Importanti di quella legge Vede un qualcosa Di straordinario Fatto su Mazzara del Vallo Perché Appunto è stato dedicato L'osservatorio a Giovanni Tumbiolo Che Diciamo per noi È stato fondamentale Inserire All'interno Della legge Quindi Il Blue Sea Land È un qualcosa di importante Che deve essere Ancora di più valorizzato E portato avanti In questi In questi anni Perché Dal nostro punto di vista È un grande punto di partenza Per Per ciò che riguarda Il settore pesca In tutti gli aspetti E quindi Di valorizzazione Di questo settore I temi della pesca Sono svariati e tanti Io Così ne approfitto Ne approfitto Diciamo Ne approfitto di voi Per lanciare un monito Noi In Sicilia Abbiamo tantissimi problemi Sulla pesca Soprattutto Nel canale di Sicilia In questi giorni In questi giorni C'è un grido d'allarme Da parte di tutti i pescatori Che viene lanciato Appunto Sulle difficoltà Che ci sono Per potere Per potere Proseguire questo lavoro E quindi Ne approfittiamo Appunto Del blues land Ne approfittiamo Anche della presenza Da parte di chi Oggi è al governo nazionale Quindi ci saranno I sottosegretari Oggi c'è il sottosegretario La difesa Domani so che dovrebbe venire Il sottosegretario Alla pesca Ne approfittiamo Affinché questi temi Vengano portati Sia al governo nazionale Ma soprattutto Vengano appunto Trattati In Diciamo Al Parlamento europeo Perché è lì Che noi dobbiamo Far valere le nostre ragioni Come regione siciliana E questa mattina Fra gli eventi In programma Nel blues land Il convegno L'allargamento Degli itinerari Del gusto Ai nuovi territori Organizzato dal Flag trapanese Nel merito Abbiamo sentito Il sindaco Di Marsala Alberto Di Girolamo Sì assolutamente sì Noi facciamo parte Del flag trapanese È qualcosa di importante Si lavora insieme Da tanti anni Insomma La maggior parte De noi sindaci Abbiamo superato Il discorso del campanile Se stiamo insieme Se facciamo rete È possibile creare Sviluppo Per questo nostro territorio Che è uno delle più belle Della Sicilia D'Italia probabilmente Però bisogna stare insieme E fare rete Chi viene qua Non viene Di solito Per visitare Una semplice città Ma viene per visitare La Sicilia La provincia di Trammare Quindi le città hanno Delle caratteristiche E poi soprattutto Dal punto di vista economico Noi abbiamo bisogno Della pesca Che poi fa parte Io come cardiologo Continuo a dire Il prodotto del mare È un prodotto migliore Che fa parte Dell'alimentazione mediterranea È fondamentale Così quindi abbiamo Dalla parte La pesca Dall'altra parte Abbiamo l'olio A vino Tutto questo messo insieme Crea sviluppo Crea economia Crea possibilità Di posti di lavoro Per i nostri giovani Per il nostro futuro Quindi stare insieme Aiuta tutti a crescere E questa è la cosa importante Bisogna crederci in tanti Si fa forse più fatica Ma è importante Il futuro semplicemente questo Stare insieme E lavorare Perché si possa trovare Occasione di sviluppo Per la nostra terra E per i nostri giovani Ovviamente le nostre telecamere Seguiranno con attenzione L'evolversi Della manifestazione Di Blue Zealand Ricordiamo L'ho giunto Alla sua Ottava edizione Tra gli altri In programma Vi ricordo Quello di domani Alle 9.30 Al Teatro Garibaldi Il convegno Su la sicurezza Nelle nostre reti È una presentazione Di una ricerca Condotta nel canale Di Sicilia Da parte Della Willa Pesca Tra gli altri Interverranno Il segretario regionale Willa Pesca Tommaso Magaddino Il sindaco Quinci Introdurrà Il segretario generale Willa Pesca Enrica Mammuccari Di particolare rilevanza Anche l'appuntamento Di domani pomeriggio Alla multisala Grillo Dove alle 16.30 Sarà proiettato Pescatori Una vita per il mare Un documentario Di Enrico Ventrice Che vi consigliamo Di seguire E cambiamo decisamente Argomento Si è conclusa La visita Di Carla Fracci Insieme al marito Beppe Menegatti Presso il Teatro Selinus Di Castelvetrano Una grande emozione Avere la stella mondiale Della danza A Castelvetrano La stessa Ha ricordato Di aver avuto Da giovanissima Già calcato Il palco Del Teatro Selinus Durante la conferenza stampa Si è parlato Di una progettualità Di spettacoli Di danza classica Tra Castelvetrano E Selinunte Anche se al momento Non si parla Di una notizia Definita E sempre questa mattina Adozione simbolica Del sito Cala della Malavia A presenziare la manifestazione Il vice sindaco Vito Billardello Unitamente All'assessore Michele Reina L'architetto Mario Tumbiolo E la dirigente Antonina Marino Era presente anche Il WWF Di Mazzara del Vallo Noi li abbiamo sentiti Un momento importante Oggi qui In questo bellissimo luogo Per un progetto Sposato dalla scuola Luigi Pirandello Di questo ringraziamo La dirigente E soprattutto L'architetto Tumbiolo Che ha collaborato Anche per la redazione Di questo progetto Siamo qui in un posto particolare Del comune di Mazzara del Vallo Dove con questo appuntamento Di oggi Si vuole portare avanti Simbolicamente L'adozione Di un tratto Di territorio Sia da parte Dell'amministrazione comunale Per la storia Che rappresenta Questo luogo E sia da parte Anche degli studenti E della scuola Luigi Pirandello L'amministrazione comunale Oggi mette a disposizione Grazie all'entusiasmo Dell'architetto Tumbiolo Che è riuscito A trasmettere Questa sua Questa sua passione Per questi luoghi storici E tutta una serie Di percorsi Che andremo a costruire Per far conoscere Ai cittadini mazzaresi Tutti questi luoghi Interessanti Che molti di noi Attualmente non conoscono Il posto della Malavia È stato uno di questi luoghi Con cui la scuola È venuta a contatto E i ragazzi L'anno scorso Hanno fatto un percorso Di 30 ore Hanno ripulito la zona Ne hanno conosciuto La storia Ne hanno conosciuto Le caratteristiche Anche naturalistiche Grazie all'architetto Mario Tumbiolo E poi si è creata Questa sinergia Con le ditte private Che si sono occupate Della pulitura Della costruzione Di una grata Della messa in opera Di una grata Messa in posa Di una grata E questo È stato un esperimento Per loro Di cittadinanza attiva Loro sono stati Promotori E i motori Di questa iniziativa E adesso L'amministrazione comunale Come già Avrà anticipato L'assessore E il vice sindaco Ha intenzione Di riscoprire Altri siti Che appartengono Alla nostra storia Al nostro territorio Perché tutta la cittadinanza Ne possa soffrire La cosa interessante Che i bambini Della scuola I ragazzi Che hanno adottato Questo luogo particolissimo Che possiamo definire Un monumento In orizzontale Che è appunto La cala Della Malavia Si sono attivate A far sì Che la zona Potesse essere recuperata Sia la memoria collettiva Sia come luogo E tutela di essa E l'elemento aggregante È stata la capacità Di coinvolgere Il pubblico Con il privato Le tre imprese Che sono intervenute È intervenuta La ditta Agricoma Che è nella realizzazione Della grata La ditta Bonanno Che ha effettuato Lo scavo La pulitura L'inserimento Desso E una ditta Che si occupa Di oggetti di mare E ha collaborato Attivamente La navale tecnico Quindi Costanzo La navale tecnico Hanno fornito La ferramenta I colori E tant'altro Quindi c'è stata Questa forma Di aggregazione Il recupero Di memoria Sì Ma anche il recupero Di elementi aggreganti Che associano L'evidenziazione Di luogo Il progetto Si pone all'interno Di un progetto Più esteso A parte quello Dei ragazzi Che con il progetto Cala della Malavia Voluto fortemente Dalla dirigente Marino Ha fatto sì Che si tutelasse Sia il contesto ambientale Che il contesto storico E l'inizio Di una serie Di luoghi Che saranno Individuati Di volta in volta Dall'amministrazione I cosiddetti luoghi Della storia Del territorio E verranno proposti In essere Alla cittadinanza E su che cos'è La Cala della Malavia Il perché Proprio si chiama In questo modo È stato a spiegarcelo Proprio l'architetto Mario Tumbiolo Proprio sul limitare Del mare A manco 5 metri Dal mare C'è un pozzo D'acqua dolce Questi pozzi D'acqua dolce Non è il solo Via il pozzo Della Malavia Che è questo Via il pozzo Di scendere Di scendere sul luogo E approvvigionarsi D'acqua dolce Ed è una delle caratteristiche Della nostra costa Seguiva poi Sul versante occidentale Le cosiddette Acque di Buscuto Alle spalle Della chiesa Di San Vito E fin sotto I cosiddetti Pedri Della statua Della San Vito Un'altra bolla D'acqua Stavolta calda Dolce ma calda La calda Della Malavia È una particolare Denominazione Del litorale Orientale Di Mazzara È un antico Approto di pirati O per meglio dire Un doppio Approto Nel senso che I pirati Afflivano In questo contesto A far Cambusa di acqua E contestualmente Dalla parte Terrestre I pastori Denominavano Il luogo La leva Per il sistema Di salovemento Delle acque E venivano qua Ad abbeverare le pecore Tant'è che Nella parte superiore Viene l'impianto Di un'antica Beveratoia Quindi I vecchi Denominavano La pericolosità Del luogo Dicendo Alla Malavia Non si ci vaia Nessuno Né in compagnia Appunto Per l'alta frequentazione Dei pirati Del luogo Ed una notizia Che ci è appena Giunta In redazione Il territorio Trapanese Ha tenuto fede All'impegno Ed è stata pagata La prima tranche Del debito Nei comuni Trapanesi Nei confronti Di Ryanair Il tutto 100 mila euro Su un debito complessivo Di 350 mila euro Ricordiamo Lo frutto Delle azioni Di co-marketing Passate A darne notizia Direttamente Il presidente Della Camera Di Commercio Pino Pace Che ha scritto Al presidente Di AERGEST Salvatore Ombra Quindi Un ulteriore Passo avanti Verso la riconferma Per i prossimi Cinque anni Di Ryanair Era un impegno Che era stato preso Nel corso Dell'incontro Di lunedì scorso Quando tutti i sindaci Del territorio Si erano incontrati Proprio con Il presidente La Camera Di Commercio Pace Il presidente Ombra E subito A distanza di tre giorni L'impegno È stato mantenuto Quindi speriamo davvero Che sia di buon auspicio Per il ritorno Agli antichi splendori Dell'aeroporto Vincenzo Florio Di Trapani Birgi Ed era questa L'ultima notizia Del nostro Tg Io vi lascio Con la nostra programmazione Ricordandovi Che è iniziato Blue Zealand E che quindi Saranno quattro giorni Di festa Per la nostra città Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti